Per Paolo Testa è l'undicesimo titolo regionale, ma di sicuro questo ha un sapore diverso dagli altri. Il tor di quinto si conferma campione Juniores, applausi al Football Club, cui però non basta un grande primo tempo. In quattro minuti riviviamo le emozioni della finale. In quattro minuti riviviamo. All around the world, we can make time, rubbin' and stoppin' cause I'm in my prime, born in the north, this one day. Guarda buona proprio per amici che può sfogare alla sua velocità, arriva al limite dell'aria, amici la conclusione, centrale. Castelli in porta, Desimono rimpallo. La parabola di Castelli sul secondo palo, il pulitese attraversa Cascione e non ci arriva. Trova a girarsi la conclusione di Caluté. Ballone sul secondo palo, ballone sul fondo. Ballone sul fondo. Ballone sul fondo. La conclusione dei Macellari, Desimone, grande risposta. La conclusione dei Macellari, Desimone, grande risposta. Tempo per concludere. E Mostarda trova una grande parada, mette il pallone in calcio d'angolo. Guarda sulla destra, vede ancora Caluté. Banca l'intervento. E allora pallone buono per Caluté. Ballone in aria. Ballone che resta in aria. Ancora Pischetta, forse gole per la fine. Arriva il vantaggio della Tor di Quinto. I am free than I blood, cause I'm rockin' Ohio. Around the world, I feel beautiful. Take a wipe, cause life is beautiful. I know, I know for sure. Bang 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 bang. I know, I know it's you. Pischetta, Puga Fernetti, Pischetta, in aria. Può gestire il pallone, va a terra, Pischetta. Piaccio di rigore per il Tor di Quinto. Il vostro Mastord lo prende. E allora il Superclub resta in partita. Oh, it's you. You say hello and then I say adieu. Ballone con la spiene, Caluté. Fernetti prova a fermarlo. Troppo veloce, Caluté. Ancora Caluté. In aria, Caluté. Resista la carica di Fernetti. Ballone in mezzo per Pischetta. Ed è finita qui il Tor di Quinto e campione regionale juniore. Sì, è bello come tutti gli altri. Questo ci ha motivi particolari per quello che sta passando. Però, vabbè, è come gli altri. Sì, è sempre bello vincere. Poi con i ragazzetti tutti, quasi tutti nuovi. C'erano 3-4 dell'altro anno. Oggi ha detto un 94 in campo. Quindi, l'ho contentissimo. Benissimo così. E' un piacere di vincere la titola regionale. E' sempre un piacere. La partita era difficile, ma però siamo riusciti a segnare tre gol. Questa è dura. C'è un valore che sopraffa il calcio. È un valore che fa la vita. Che dà forza per combattere, per avanti. Questa è una manifestazione che ci entusiasma per quello che è. Soprattutto è una partita di calcio. Non è altro. Poi, sinceramente, sono venuto qui con la convinzione di vincere che non mi era capitato nemmeno contro Ottavia. Cambiata sul 2-1 e soprattutto sull'espulsione. Perché, insomma, già fare tre partite in sei giorni purtroppo non siamo stati cattivi nel momento della conclusione. noi non abbiamo concluso. Abbiamo concluso debolmente. Non siamo soddisfatti perché puntavamo a vincere e lo volevamo veramente con tutte le forze.